Per l'Atalanta inizia un vero e proprio tour de force con sette partite, tre di campionato e due di Europa League da giocare in 22 giorni. Sì, i primi anni quando ero qua siamo abituati a questo ritmo di giocare ogni tre giorni, adesso ci torna di nuovo come era già all'inizio del campionato e saranno tutte belle sfide, tutte grandi gare. E niente, siamo pronti, abbiamo fatto un bel percorso in questi ultimi due mesi più o meno e come ho detto speriamo di continuare e di mantenere questa striscia. Si parte con il Milan a San Siro, poi ancora a Milano, mercoledì 28 febbraio, il recupero della ventunesima giornata con l'Inter. Sì, subito due gare toste, una dietro l'altra, squadre che sono davanti a noi, quindi prima pensiamo a Milan, l'abbiamo già battuto due volte quest'anno, quindi speriamo di farlo di nuovo e poi ci pensiamo all'Inter che sta facendo davvero bene. Sì, subito due gare.